Il sistema informativo del restauro della Fontana del Nettuno di Bologna è nato da una collaborazione tra il CNR Isti, Università di Bologna, Comune di Bologna e l'Istituto Centrale del Restauro di Roma. L'idea è stata costruire un sistema centralizzato per la raccolta della complessa documentazione di un'operazione di restauro attraverso un sistema informativo che fosse accessibile anche sul sito, quindi che fosse perfettamente un sistema web ma che permettesse di accedere a dati di alta qualità. In particolare il sistema informativo è totalmente incentrato su una rappresentazione tridimensionale dell'intera Fontana del Nettuno ad alta risoluzione. Il sistema informativo è stato progettato dai partner del progetto e interamente implementato dal CNR di Pisa. Il sistema informativo ha una struttura piuttosto semplice perché deve essere utilizzato dalle diverse professionalità che lavorano all'interno di un cantiere di restauro, che quindi possono anche non avere un background di tipo informatico. Ed è basato essenzialmente sul concetto di operazione. Quindi noi abbiamo un modello tridimensionale della Fontana ad alta risoluzione che rappresenta non solo la parte superiore della Fontana ma anche gli altri elementi importanti come ad esempio la parte sotterranea che contiene il sistema delle acque che ha necessitato di una ulteriore operazione di restauro in quanto dall'Ottocento non funzionava più. Siccome la struttura dell'opera è molto complessa, essendo formata da molti elementi di materiale diverso, è stato necessario trovare una semantica che la descrivesse in modo completo, che permettesse di gestire il sistema informativo in modo semplice. Quindi l'intera Fontana è stata suddivisa da prima in una prima semantica relativa a diversi livelli di altezza e ciascun sottolivello è stato poi ulteriormente suddiviso in sotto elementi, suddivisi diciamo principalmente per il tipo di materiale. Quindi l'intera Fontana è stata descritta nei suoi elementi che poi vengono, sono quelli che sono considerati uno per uno da parte delle professionalità che lavorano all'interno del restauro. Questa suddivisione semantica dell'oggetto permette di gestire molto meglio la documentazione e potersi concentrare anche su modelli ad alto dettaglio di parti molto piccole dell'oggetto. Quindi è stata effettuata una scansione tridimensionale in cui abbiamo una risoluzione della geometria che è sull'ordine del millimetro e abbiamo una stessa risoluzione anche dal punto di vista del colore. Questo era il dettaglio necessario ai restauratori per poter lavorare sul modello tridimensionale. Il sistema informativo si basa essenzialmente sul concetto di operazione, quindi quando un operatore entra all'interno del sistema informativo ha la possibilità di inserire una nuova informazione con questa operazione che è diciamo descritta da una serie di campi abbastanza semplice tra cui il responsabile data, poi abbiamo il campo dell'ambito che è appunto quello che descrive i diversi tipi di contributi che ci possono essere, possiamo avere documentazione storica, possiamo avere le mappe tematiche generate dai restauratori o i calcoli fatti dai esperti per ad esempio il reflusso delle acque o l'illuminazione della fontana stessa. Abbiamo poi il campo dell'attività in quanto l'operazione di restauro si divide in una fase di analisi, di progetto e di intervento ma il sistema informativo è stato pensato anche per poter essere qualcosa che vada oltre il restauro ma possa essere un qualcosa che possa supportare il comune di Bologna nella manutenzione della fontana dopo la conclusione dell'attività di restauro. A corredo di ogni singola operazione inserita all'interno del sistema informativo è possibile aggiungere in ogni momento materiale come ad esempio documenti in pdf, immagini e è possibile inoltre inserire uno degli elementi centrali all'interno di un progetto di restauro che è la mappa tematica. La mappa tematica serve ai restauratori a fare dapprima un'analisi della superficie degli oggetti e poi andare a documentare non solo lo stato dell'opera d'arte ma anche le operazioni di pulitura, di intervento che sono state fatte sull'oggetto. Questi tipi di mappe tematiche diciamo nella procedura corrente vengono fatte o in 2D diciamo utilizzando procedure manuali come fogli trasparenti sopra fotografie oppure utilizzando strumenti CAD. In questo caso invece si va a lavorare direttamente sul modello tridimensionale. Questo è un esempio di mappa tematica sulla parte della statua del Nettuno quindi la parte in cima della fontana e come vedete queste piccole aree rappresentano in questo caso le deiezioni animali che sono state trovate sulla superficie della statua. Quindi il restauratore deve andare a tracciare delle aree direttamente sul modello tridimensionale. Il sistema informativo permette di fare questo in modo molto semplice andando a creare delle nuove aree che poi vengono visualizzate con diversi colori definiti dai restauratori stessi per poter poi avere una descrizione della mappa tematica relativa a un particolare effetto. La navigazione del modello tridimensionale permette di raggiungere punti di vista completamente arbitrari ed è quindi un passo avanti molto forte rispetto ad esempio a lavorare semplicemente con delle immagini. Naturalmente è possibile anche lavorare sulla pura superficie. Alcune delle mappe tematiche sono più visibili guardando la superficie pura invece che la parte colorata nel modello tridimensionale e ci sono una serie di altre funzionalità come ad esempio la possibilità di cambiare l'illuminazione che aiutano nel trovare e creare queste mappe tematiche che possono essere aree, poli linee oppure punti. Le informazioni di mappatura e la documentazione del restauro devono essere poi facilmente accessibili al personale per poter gestire il restauro, ricostruire la storia del restauro stesso e anche diciamo guidare le decisioni nell'ambito dell'operazione di intervento sull'opera d'arte. Quindi è necessario poter essere in grado di visualizzare in modo intuitivo tutte le varie informazioni che sono state collegate alle diverse parti della fontana. Quindi è possibile ad esempio visualizzare sul modello tridimensionale in modo automatico tutte le mappe tematiche che sono state tracciate sulla superficie del modello tridimensionale. Questo permette di avere una panoramica diciamo dello stato del modello tridimensionale. Quindi attraverso il sistema informativo è possibile vedere tutte le diverse tracciature che sono state fatte sulla superficie, accedere a qualsiasi tipo di documento che sia stato associato a questa parte della fontana, immagini, documenti, grafici, dati numerici e così via, e anche lavorare sulla visibilità delle diverse mappe tematiche in modo da avere visualizzazioni personalizzate che permettono di focalizzarsi su determinati effetti che sono presenti diciamo sulla superficie. Il sistema informativo quindi rappresenta il riferimento per gli operatori che hanno compiuto il restauro ma anche per coloro che dovranno andare a fare operazioni di manutenzione in futuro attraverso il quale sarà possibile evitare di avere azioni lunghe e costose come il presente restauro semplicemente andando a focalizzarsi sulle parti che hanno necessità di una maggiore manutenzione e di un controllo più assiduo. Il sistema informativo del restauro del Nettuno di Bologna rappresenta un progetto pilota ed è stata una prima sperimentazione della possibilità di fare una vera documentazione 3D di un'operazione di restauro. Il sistema è stato creato ad hoc per l'opera d'arte che rappresentava tra l'altro un caso molto complicato di partenza ma l'idea dal punto di vista della collaborazione tra il CNR, ISCR e Università di Bologna è di creare un sistema che possa essere utilizzato in una qualsiasi operazione di restauro quindi un sistema informativo in cui sia possibile caricare un modello tridimensionale e andare a aggiungere tutta la documentazione in modo semplice senza bisogno di particolari conoscenze dal punto di vista informatico.